Qui a Greenwich dobbiamo fare la sfida di Scruble, dobbiamo fare la sfida dei gadget in questo gioco Marvel Spider-Man, visto che questo contenuto aggiuntivo DLC si intitola La città che non dorme mai. In questa sfida sarai limitato ai seguenti gadget, ragnatela impatto e ragnatela elettrica. Dobbiamo eliminare i nemici con entrambi i gadget insieme per ottenere punti. Un photobomb? E dov'è? Devo usare le ragnatela elettriche. Ricordatevi di tenere premuto a L1 per selezionare i gadget. Bene, arriva il photobomb. È difficilissimo però. Oh, finalmente sono riuscito a farlo e sto cavolo di photobomb. Bisogna decimare tutti. Questa volta è difficile farlo per davvero il photobomb. Mi tirano delle granate stordenti. Non so perché. Mi stordiscono. Non sto facendo i punti nel photobomb. Ricordatevi che noi abbiamo completato quel photobomb. Questa sfida dei gadget vi faccio ricordare anche se avete completato una sfida di screwball potete anche rigiocarla e rifarla però vi assicuro che potete migliorare e fare un ottimo punteggio se volete vincere i gettoni. Vabbè, se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale come sempre. Parola di Gabriel Oster.